Buon pomeriggio Sud a tutti, siete pronti per il weekend? Noi siamo pronti per partire con l'ultima puntata della stagione televisiva 2023-2024 di Pomeriggio Sud. In apertura parleremo del festival Borgo Talent 2024, giunto alla sua settima edizione, si terrà a Borgo Celano. Poi andremo a Terlizzi, in fermento alla cittadina per festa maggiore. Anche a Mosfet andremo, dove le tradizioni sono sempre protagoniste, un'estate ricca di eventi, per cui restate con noi, c'è la sigla. Ben ritrovati, buon pomeriggio Sud a tutti. Tra poco i nostri contatti, intanto vi anticipo che potete sempre interagire, anche se andiamo in vacanza. Pomeriggio Sud, chiocciola antennasud.com Interazione con il pubblico, lo ripeto sempre, l'ho ripetuto tanto. In questo anno ricco di sorprese, ricco di cose, numeroso di collegamenti, ospiti. Tutto ciò che un'offerta televisiva, entrando nelle vostre case, vorrebbe proporvi. Detto questo, andiamo subito però al lavoro, come si dice, rimbocchiamoci le maniche perché dobbiamo comunque informarvi e intrattenervi. Mi vado subito a collegare perché parte, tutto pronto per questa settima edizione del Festival Borgo Talent. Luigi Mossuto è il fondatore, lo vado subito a salutare. Luigi come stai? Ciao Francesco, buon pomeriggio, grazie molto bene. Ti saluto da un comune vicino a Borgo Celano, dove svolgiamo il Borgo Talent da Rignano Gargani, con la quale mi trovo per motivi professionali. Benissimo, vedo che è un po' nuvoloso il cielo da quelle parti. Esatto, esatto. Ti sento pochissimo, non so se la regia riesce ad alzarmi un pochettino l'audio. No, è a poco fuori, sì, è stato, in questo momento sta alzando un aereo. Ok, intanto riesci ad anticiparmi qualcosa? Che cosa prevederà questa settima edizione tra ospiti e concorrenti? Un talent che da ben sette edizioni riesce ad essere una grande vetrina per tutti i partecipanti. Sì, è un festival nato nel 2017 con l'idea di valorizzare il nostro Borgo, Borgo Celano, che è frazione turistica residenziale della città di San Marco e Lamis, ma anche quello di valorizzare i tanti talenti che abbiamo nel nostro Gargano e non solo quest'anno. La settima edizione avremo concorrenti da ogni parte della nostra provincia e non solo, avremo anche concorrenti fuori regione. Quattro categorie, cantautori, interpreti, poeti e novità di quest'anno i kids, piccolità dellenti dai 4 ai 14 anni, che per tre serate, da venerdì 26 a domenica 28 luglio, si sfideranno tra loro, si metteranno in gioco e saranno i protagonisti anche quest'anno del Borgo Talent, ricco anche di ospiti nell'arco delle tre serate, con tanto pubblico, stand e no gastronomici, perché è uno spettacolo di piazza, in diretta sulla nostra TV locale, che è TV Gargano. Questo è il 26, 27 e 28 luglio. Mi mandate alcune foto? Abbiamo anche una galleria fotografica che tra pochissimi istanti scorrerà. È l'appuntamento della tre giorni, praticamente. Esattamente, sì. Partiamo venerdì 26 luglio alle 21, fino a mezzanotte, lo stesso sabato 27 luglio, e lo stesso con la finale, domenica 28 luglio, tre serate di pieno spettacolo, di pieno divertimento, in cui abbiamo un obiettivo importante, quello di valorizzare il nostro territorio, che fa parte comunque del Gargano, una parte fondamentale della Regione Puglia per la sua storia, per il suo assetto e attrattività turistico. So che fai tanto per il territorio del Gargano, eh? Assolutamente. Noi abbiamo, ripeto, anche TV Gargano, la quale siamo in onda ogni domenica, con la domenica del Gargano, e anche tante altre trasmissioni, perché il nostro intento, anche il mio, soprattutto, è quello di valorizzare il nostro territorio, un po' come fate anche voi, con Antenna Sud, certo, con una scala molto più ampia, nel contesto interregionale, noi, un po' più piccoli, ci concentriamo per valorizzare il Gargano. Anzi, sempre più uso di... Il valore è sempre importante, indipendentemente dal tipo. Grazie. Dicevo, ne approfitto della tua ospitalità, per dire che noi stiamo lanciando in questi mesi il brand La Città del Gargano, perché il Gargano è formato da 18 comuni e noi pensiamo che la sinergia di questi 18 comuni dall'ambito associativo, sociale, ma anche perché non domani amministrativo sarebbe il sogno di tutti gli amanti nel Gargano, potrebbero insieme questi fattori realizzare un grande polo di rete tra di loro, costituendosi nel tempo, che è la Città Gargano. Quest'anno quanti concorrenti si esibiranno? 25 concorrenti, 7 nella categoria... Un bel numero, è bello, 25 artisti, è un bel numero. Ogni anno abbiamo la media di 20, 22, quest'anno scriviamo un record 25, appunto, 7 concorrenti nella categoria cantautori, dove porteranno due canzoni scritte da loro, poi avremo la categoria interpreti con 8 partecipanti, categoria poeti con 5 partecipanti e poi kids con altre 5 partecipanti. Questo talento e questo talent, secondo te, qual è l'emozione forte che riesce a regalare al pubblico, che ogni volta la segue, come Kermesse. Sì, abbiamo una media di circa 100.000 spettatori nella media delle serate, per serata, con tanta attesa e soprattutto penso che l'elemento attrattivo di Borgotale sia quello di far trascorrere tre serate di leggerezza, di puro, senza andare sul volgare, senza fare quello spettacolo di facile divertimento, assolutamente. Un spettacolo di qualità, uno spettacolo in cui i protagonisti sono persone normali che svolgono lavori che ognuno di noi fa nel quotidiano e che regala emozioni vere e sincere. E soprattutto abbiamo un target, Francesco, familiare, perché sono le famiglie che vengono ogni anno a vedere, ad assistere al Borgotale, abbiamo i bambini, con i genitori, con i nonni, quindi generazioni intere. Certo, un appuntamento con la cultura, con la tradizione, ecco che le famiglie poi è un momento aggregativo. Ascolta, immagino ci sia stata una preselezione. Esatto, di dire che quest'anno abbiamo una concorrente che viene da Bergamo, per dirti, una musicista. Ti sento pochissimo, abbiamo capito però che c'è una concorrente che viene da Bergamo. Per portare quest'anno abbiamo una concorrente che viene da Bergamo come categoria interpreti. Bello, significa che state portando e sei riuscito a portare fuori questo format. Sì, mi fa molto piacere. Tanto c'è ancora da fare, faremo sicuramente insieme a tutta la squadra di Borgotale, anzi ne approfitto per salutare tutti, il direttore artistico Silvio Nardella e la coordinatrice staff, Celestia Solimando, ecco saluto loro per salutare tutti. Ecco, l'età media dei partecipanti quest'anno qual è? Sono un po' curioso. Allora, Borgotalent non ha mai avuto una fascia d'età precisa. In questa categoria abbiamo avuto concorrenti dai 6 anni ai 80 anni. Abbiamo dell'età che spaziano. La novità è che abbiamo inserito una categoria kids, dove dai 4 ai 14 anni abbiamo dei piccoli talenti, ma nelle altre categorie abbiamo una media di circa 30-40 anni, ma abbiamo anche alcuni concorrenti over 75 che parteciperanno soprattutto nella poesia poeti. Forse prima ti ho perso un po', quali ospiti ci saranno? Avremo due ospiti per ogni serata. Prima serata, venerdì 26 luglio, partiremo con il vincitore della categoria cantautori, Carlo Messinese, della scorsa edizione, un ragazzo che ha fatto strada. È stato anche prodotto una sua canzone su scala nazionale, dove alcune radio lo hanno lanciato. Poi avremo anche, sempre nella prima serata, avremo un altro ospite, anche lui ha sentito nella nostra città, San Marco e Lamis, che è Luciano Mastromauro, che fa da anni la voce dei Poo, è un amico che da anni porta avanti i Poo la storia di un leggendario gruppo della musica italiana. Seconda serata, direttamente da The Voice Senior, avremo Michele Principe e la cover dei Queen. Serata finale, 28 di luglio, chiudiamo con l'attore Marco Torinese, notatore di serie Rai, e una cantautrice emergente, Terry San Paolo. Bene, a me fa piacere che tu abbia condiviso con noi queste info, con i telespettatori, l'appuntamento 26, 27 e 28 luglio, a partire dalle 20 e 30. Giusto? Grazie a voi per questa opportunità che ci avete regalato a noi come staff di Borgo Talent, ma penso un po' per tutti i miei concittadini, per tutta la nostra città. È stato un onore poter essere presente. Colgo l'occasione per ringraziare anche gli enti che hanno patrocinato Borgo Talent, quest'anno, dalla città di San Marco e Lamis, alla provincia di Foggia, alla regione Puglia, al Consiglio regionale della regione Puglia e alla Proloco Puglia. Quindi abbiamo anche dei partner istituzionali che quest'anno hanno creduto in Borgo Talent. Sono convinto che saranno numerosi anche quest'anno lì, in quel di San Marco e Lamis, in particolare a Borgo Celano, con questo festival che hai, lo ricordo, per chi ha pigiato il telecomando un po' più tardi, hai inventato tu sette anni fa praticamente, perché una volta all'anno si tiene l'appuntamento con questa Kermess di successo. E complimenti perché ci tieni al territorio e insomma, ripeto, sei molto attivo e riuscite a realizzare davvero molte, molte iniziative. Complimenti. Grazie a voi di cuore e grazie, ripeto, per l'opportunità e l'ospitalità che ci avete donato questo pomeriggio. Ci rivediamo quanto prima, Luigi Mossuto, grazie. Adesso andiamo per pochi istanti in pubblicità, restate con noi, perché andremo in altri luoghi della Puglia, vi farò vedere delle immagini spettacolari. Anche le persone che amano i riti religiosi potranno essere lì incollati al TV, perché ne abbiamo anche per voi. Ben ritrovati a pomeriggio sud, pomeriggio sud, chiocciola, antennasud.com Continuate a seguirci, sempre numerosi, anche se è l'ultima puntata, però poi dopo un riposino cercheremo di riproporvi tutto quello che c'è in programma nei nostri territori e non solo. Detto questo, parliamo di, a proposito territorio, due località, lo so che siete tanti lì in attesa, in fermento, appuntamenti che stavate attendendo e devo dire, un grande lavoro viene fatto dai rispettivi comitati. In questo caso il Comitato Feste Patronali di Terlizzi e il Comitato Feste Patronali Molfetta. Vado dagli ospiti e ringrazio per essere qui Michelangelo Matacchione, Presidente del Comitato Terlizzi, benvenuto. Grazie a voi. Grazie a Maria Rita Rana, ha detto stampa, tutto bene? Tutto bene, grazie. Vincenzo Germinario, saluto il Presidente del Comitato Feste Patronali Molfetta e Francesco Sanciglio, il Vice Presidente del Comitato Feste Patronali di Molfetta. Tutto bene? Sì, sì, abbastanza. Siamo contenti, siamo contenti. Intanto anche a Molfetta è tutto pronto, il Comitato Feste Patronali di Molfetta con il suo Presidente, come detto, il Germinario affiancato dal Vice Presidente Francesco Sanciglio. Che cosa stanno preparando? Adesso ce lo dicono, ma insieme a tutto il direttivo, tutti i soci, sono al lavoro per questi solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima dei Martiri, compatrona della cittadina. Un ricco cartellone di eventi, devo dire. Questo programma religioso, non mancherà il folclore, mi anticipate ancora di più perché io c'ho dei contributi tra poco. Prego Vice Presidente. Allora, per quanto riguarda noi, la festa di fatto si apre il 12 agosto con l'intronizzazione quest'anno della Vergine Maria. Viene appunto intronizzata sul Tosello che la ospiterà per tutto il periodo di festa fino più o meno intorno al 20 di settembre. Il primo appuntamento importante è quello del 25 agosto. Appunto ci sarà la terza edizione del corteo storico Regina Martirum, una rievocazione dell'arrivo dell'icona avvenuto nel 2 ottobre del 1188. Un corteo che attraversa le principali vie della città. Noi già dallo scorso anno abbiamo pensato di portarlo un pochino fuori dal centro cittadino. O meglio, lo scorso anno pensiamo di farlo partire da una struttura che ospita anziani perché ritenevamo che è giusto che anche loro avevano la possibilità di assaporare l'aria di festa. Quest'anno il corteo, oltre alla parte del folklore che non può mancare, c'è una seconda parte appunto religiosa che magari non svegliamo tutto perché è bene diciamo che poi lo vedano. Non possiamo anticipare nulla su questa parte religiosa, giusto per così? Allora, quest'anno si arricchirà del miracolo. Intanto stiamo vedendo le immagini della grande partecipazione del pubblico e di ciò che poi la tradizione riesce a rappresentare. È il momento clou dell'8 settembre, dopo che la Madonna alle 15 lascia la Basilica e si avvia verso la banchina San Domenico dove viene imbarcata sui tre pescherecci. Sì. Ma qui poi magari più tardi siamo più precisi. Beh, devo dire. E quindi dicevo, quest'anno il corteo avrà questa novità e fermo restando tutte le cose comunque principali. Dopo appunto aver attraversato le principali vie della città arriverà comunque sul Sagrato della Basilica dove ci sarà lo spettacolo conclusivo, l'esibizione dei gruppi che vi parteciperanno. Dopo il 25 agosto, noi ormai già dallo scorso anno, appunto il primo della nostra gestione, abbiamo pensato di creare un discorso di aggregazione con altre realtà associative della città e quindi abbracciare anche il mondo sportivo. Il 26 agosto ci sarà una seconda edizione presso il Paolo Poli, una sorta di trofeo dello sport, ecco se così lo vogliamo dire, però il lunedì 26 solo riguarda il calcio. Il settore giovanile, come già è avvenuto lo scorso anno, ci sarà la partecipazione di alcune squadre della città che appunto metteranno su queste sfide per assegnare, seppur simbolicamente, un vincitore perché per noi, diciamo, noi abbiamo già vinto dal momento in cui abbiamo la risposta e la partecipazione attiva da parte delle società. Lo amplieremo il 27, stiamo pensando, siamo già a un buon punto, con un torneo, questa volta però, di basket giovanile. Quindi ci stiamo lavorando, però noi siccome siamo un pochino ancora in fase... Di elaborazione. Sì, perché ci sono dei dettagli, perché purtroppo cerchiamo di curare molto i dettagli. Io ero affascinato da queste immagini, davvero spettacolari. Ci sono tanti momenti di emozione. Presidente, ma secondo lei qual è quello più suggestivo? è quello che puntualmente i cittadini, e non solo perché vengono da fuori... Il momento più emozionante, il momento più dove veramente ci si ferma il cuore è il momento in cui la Madonna di Marti sta per uscire dalla chiesa. È qualcosa che non si può descrivere. È un'emozione meravigliosa. È un momento particolare perché porti in spalla, ti avvicini alla Madonna in un modo molto, molto corposo, che è qualcosa di veramente indescrivibile. E quello è il momento secondo me, secondo tanti, tanti amici, è il momento più bello. Tutto il resto dopo, la festa, il folgore, è tutto bello, tutto bello. Ma il momento in cui saremo le ore possibili, se era possibile stare due, tre, quattro ore, in quei venti metri della chiesa, è qualcosa di spettacolare. I riti religiosi che stiamo vedendo in onda, quando partiranno invece? I riti religiosi? Quando si potrà appunto assistere alla messa? Già dalla mattina dell'otto c'è la messa della Sua Eccellenza, poi tutta la giornata e anche dal giorno prima tutte le chiese si seguono nel celebrare la messa alla Madonna di Marti. perché l'otto è il giorno in cui esce la Madonna dalla Basilica, ma il giorno sette è il momento anche molto particolare. 7-8 settembre in questo caso. 7 settembre, perché la festa è 7, 8 e 9. Poi il giorno sette c'è l'incoronazione della Madonna. La sera prima, la sera alle 19, c'è l'incoronazione della Madonna, che è un altro momento veramente bello, che è veramente difficile spiegarlo. Perché magari soprattutto in questo periodo storico è utile assistere, un momento al quale è davvero utile per aprire i cuori, essere un pochettino più affiatati tra gli esseri umani. Pensiamo anche a questo aspetto conviviale. Sì, anche perché voglio ricordare che Molfetta è una città con migliaia e migliaia di emigranti in tutto il mondo. Loro aspettano, decidono il periodo della Madonna di Marti per tornare al proprio paese, per incontrare i parenti, amici, in occasione proprio della Madonna di Marti. Forse possiamo dire che la Madonna di Marti a Molfetta unisce tanti, tanti familiari, tanti amici che durante l'anno fanno fatica a incontrarsi. Bene, torniamo tra poco da voi a Molfetta. Manca anche poco per la sempre attesa festa maggiore che avrà luogo a Terlizzi domenica 4 agosto, quando questo carro trionfale attraverserà le vie della città e questo con il folclore, con la tradizione, con le emozioni. Devo dire, di una comunità sempre molto attiva. Una settimana che sarà ricca di festeggiamenti, in realtà sono otto giorni, è vero? Sono pure di più di otto giorni. L'onore di Maria Santissima di Sovereto. Certo. Stanno proseguendo i lavori da parte vostra, quindi adesso anticipateci qualcosa. Presidente Mattacchione e all'addetto stampa, prego. Bene, noi diciamo in realtà la nostra festa comincia il mese di aprile, comincia il 16 di aprile, quando si aprono le porte della Chiesa Madre e tutta la gente accorre alla Madonna di Sovereto. Successivamente il giorno 23 di ogni anno viene portata a Sovereto perché c'è una famosa leggenda, ecco perché c'è questo caro trionfale qui. E inquadriamolo, inquadriamolo meglio perché... Qui sulla mia destra. Vogliamo condividere... Questa è una miniatura personale del caro che è stata fatta dal maestro Palmiotti. Ma quanto tempo se l'ha? Questa da pochissimo, cioè dall'anno scorso perché io... L'anno scorso è stato il primo anno della mia presidenza, che ha sconvolto un po' le acque perché effettivamente noi abbiamo un attimo preso la festa in una maniera diversa. Qual è il cambio che ha voluto dare? Praticamente, diciamo, c'era il nostro, diciamo, sottotitolo della festa maggiore. Ecco, ora stiamo vedendo questo passaggio sotto gli archi mai fatto in passato. Tenete presente, io poi scusate se mi divago un attimo, ma siccome sto guardando le immagini... Ecco, questo passaggio è stato fatto sotto gli archi tenendo presente che il nostro carro è alto alla punta della croce di 22 metri. Quindi su questa punta è 22 metri. È largo 6,60 metri ed è lungo 13 metri circa. Il carro è praticamente spinto da circa 60 portatori. Ci sono i quattro timonieri che abbiamo visto prima che praticamente portavano il timone come se fosse un'onda, insomma. Un andamento che sta a presentare un'onda. Questo andamento chiaramente non è voluto, cioè non è folcloristico, attenzione, cioè che molti pensano che sia folcloristico. Ma questo andamento è provocato praticamente dal timone che ogni volta che le ruote prendono anche un piccolo fosso, praticamente, danno questo sbalzo al timone che praticamente si muove e quindi comunque si oscilla. Quindi per mantenere ferma la barra devono cercare di stare in asse fra di loro e tenere lo stesso passo, che non è una cosa semplicissima. Bella questa curiosità, verla soddisfatta perché... Non è una cosa semplicissima. I quattro timonieri sono comunque gestiti da un capo timoniere. Un capo timoniere che è già stato nel passato timoniere e quindi conosce benissimo quelli che sono tutti i passaggi. Dovremmo avere anche un filmato, se non ricordo male, delle famose curve. Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, benissimo. Manda in onda. Ecco, questa è la più importante forse. Una delle più pericolose. è la curva di Corso Dante. Se voi vedete il pavimento, quella breccia noi la mettiamo il pomeriggio e la bagniamo, perché questa curva è una curva in discesa. Vedete come loro ogni volta che la ruota praticamente prende una situazione di non stabilità, ballano sul timone, ballano in maniera verticale. Quindi per tenere ferma la barra, loro devono... Ecco, ora stanno girando Corso Dante, si mettono in Piazza Cabur. Questa è la curva più interessante, perché proprio di fronte c'è un fabbricato. Quindi loro sfiorano il fabbricato e devono girare a 90 gradi... Tutto alla precisione. Tutto alla precisione. Qua c'è il timoniere, il signor Cataldi, che è stato il capo timoniere l'anno scorso. Questo uomo che vediamo davanti ai quattro... I quattro timonieri e questo signore con gli occhiali è il costruttore del carro. Perché dovete sapere che ogni anno il carro viene, diciamo, non distrutto, ma smontato... E rimontato. E poi rimontato l'anno dopo. Sempre allo stesso modo o di volta in volta si personalizza? Dal 1868, quando il sindaco di Terlizzi, Michele De Napoli, con un signore di Foggia, che era uno scenografo, un certo affaitato, studiarono le prime bozze del carro trionfale. Dove, praticamente, nella parte centrale c'è la nostra Madonna di Sovieretto. Una cosa molto importante... A casa si spiegheranno come mai da tradizione sono stati scelti soltanto quattro timonieri. Sono quattro timonieri. Da sempre sono quattro timonieri. Anche perché la barra... Ecco, questo... Ecco, qui... Dobbiamo ricordarci un episodio dell'anno scorso. Qua si è rotto il timone. Allora, l'anno scorso è successo che a questa curva, proprio in questo momento, forse fra qualche attimo, il carro prende un tombino e si rompe praticamente il timone e quindi siamo stati costretti a bloccare il tutto, prendere il timone di riserva e poi sostituirlo e, diciamo, finire. Perché questa poi è la... Ci sono riusciti in poco tempo? Diciamo che siamo riusciti in mezz'ora circa. Sì, in 30 minuti. Ma era un incidente già successo ed era la prima volta? È successo nel passato, ma non in questa maniera. L'anno scorso, ecco, questa invece è la partenza. Sulla parte superiore ci sono 100 bambini, eh? Ci sono 100 bambini. Sopra la statua di San Michele ci sono 100 bambini. Sì, sì. I due buoi sono invece frutto della famosa leggenda. Quindi questo carro nasce perché? Perché un pastorello bitontino stava pascolando nella contrada del Sovero, che oggi si chiama Soveretto. Sì. Una pecora, non trovava una pecora, cercandola la vide bloccata con una zampa in un fosso, in un buco. Sì. Tirò fuori la pecora e vide una luce fortissima che veniva fuori da questo buco. Scavando trovò il quadro della Madonna di Sovero. Il problema era ora, ma questo quadro di chi è? Del pastorello bitontino? O dei proprietari del fondo della contrada Sovero? Allora decisero di tirarlo a sorte, come? Con il carro. Mettiamo due buoi, li lasciamo tranquillamente liberi, ci mettiamo il quadro sopra e vediamo. Li portano verso Bitonto o li portano verso Terlizzi? Perché Soveroetto sta al centro fra Terlizzi e Bitonto. Partì questo carro, tutto un tratto stava andando verso Bitonto. Se voi ci fate caso, lo vedete, forse l'immagine si può vedere meglio. Il bue di Bitonto ha un occhio sanguinante perché il bue di Terlizzi, mentre stava varcando praticamente l'ingresso di Bitonto con una incornata portò il carro a Terlizzi. Questo tragitto quanti minuti dura? Allora noi di solito il carro parte intorno alle ore 21 per arrivare intorno al mezzanotte e mezza circa. Tutto a proposito di tradizione, tutto viene raccontato bene da Maria Rita Rana che si occupa di portare fuori quello che accade. Assolutamente sì, diciamo che la spettacolarità di questa festa, della nostra festa maggiore è proprio questa, la capacità di poter poi trasmettere questo genere di emozioni anche oltre Terlizzi. Lo abbiamo visto dalle immagini, dai racconti del presidente Matacchione. Il nostro obiettivo è proprio quello di rendere coinvolta tutta la comunità. Ecco che il motto della nostra festa è proprio tradizione ma anche rinnovamento, creare questa sinergia, questa coesione, non soltanto poi in quelli che sono gli eventi che ovviamente si organizzano per la festa maggiore ma anche tra i membri del comitato stesso. Io sono appunto addetto stampa ma ovviamente anche membro del comitato e questa opportunità datami proprio dal presidente Matacchione l'ho colta davvero con uno spirito importante, cioè sento la responsabilità ma anche la gioia e la fortuna di così giovane poter far parte di questa grande macchina da festa perché magari chi la vede da fuori non comprende quante difficoltà ma anche quanta bellezza, quanta autenticità. È sempre bello sottolinearlo però. Assolutamente sì perché la gestione, l'organizzazione di una festa patronale fondamentale è complicata, molto complessa. Anche perché le cose belle quando vengono proposte non è facile appunto metterle alla mercè di chi poi ne soffruisce quindi anche insegnare ai bambini quanto poi la difficoltà, regali delle soddisfazioni è importante. Vedo che ci sono molti piccoli tre pubblico, devo dire che anche in questo caso registrate una grande quantità di pubblico, di spettatori, io abituato in tv ovviamente dico telespettatori, che ovviamente ci sono anche là. Certo, ma questa è proprio una tradizione che viene trasmessa dai genitori ai bambini. Magari si potesse percorrere questa strada sempre perché è proprio da bambini che si inculca la bellezza, insomma delle tradizioni, delle peculiarità del proprio paese. Come comitato, come ha detto Stampa, la nostra comunicazione deve essere assolutamente efficace, smart, immediata. Raggiungere anche i ragazzi più giovani. Questo perché? Perché anche attraverso i social, magari anche attraverso un format che abbiamo creato, che ha a che fare con delle interviste molto spesso, non soltanto destinate alle istituzioni, ma anche destinate al popolo, magari all'anziano che quindi riporta i suoi ricordi e poi al bambino che invece vive tutto con gli occhi dell'innocenza e soprattutto appunto della spettacolarità. Bellissimo, meraviglioso, anche perché ci stai facendo vedere un po' le immagini, un po' quello che tu racconti, ci stai facendo vedere esattamente quello che accade. E quindi ricordo che si tratta di due eventi importanti riconosciuti in tutto il mondo, vengono da ogni parte del mondo, sia a Terlizzi che a Molfetta, Media Partner e Antenna Sud. E noi di questo siamo felicissimi, comunque ringraziamo, penso anche dai amici del Comitato di Molfetta e Antenna Sud. La storia si scrive attraverso la televisione anche. Stavo dicendo che ringraziamo Antenna Sud per l'attenzione che sta mostrando alle nostre due città. Io penso che anche i nostri sindaci ne siano contenti di questo. Noi stiamo cercando di dare il massimo da ambo le parti, noi da Terlizzi, loro da Molfetta. Devo dire che con gli amici di Molfetta, con quelli di Giovinazzo, con quelli di Ruvo, quest'anno è nato questo rapporto sinodale, finalmente, quindi quattro comitati stanno collaborando. Ci stiamo dando anche delle dritte perché, insomma, io dico sempre, non c'è il manuale del buon presidente. Non esiste. Io sono andato in biblioteca e non l'ho trovato. Quindi, ecco, ci diamo una mano perché è fondamentale anche capire come muoversi. Oggi, purtroppo, il problema è più grosso. Ma certo, sicuramente. Noi, diciamo, nel comitato ci sono 22 persone che io ringrazierò per tutta la vita, per questi due anni che sono stati con me. Veramente, diciamo, hanno donato l'anima. I volontari ci sono dovunque, ci sono pure, diciamo, sotto al carro a spingere questa macchina linea che è pesantissima. Quindi, diciamo, alla fine... Dove viene custodita? Allora, questa è custodita, smontata, nell'amione di Viale Roma. Quindi, praticamente, alla chiesa che sta, noi lo chiamiamo volgarmente Calvario, praticamente, che sta in fondo a Viale Roma. Gli viene smontato, viene sistemato e poi ogni anno, a seconda, diciamo, di chi vince la gara, diciamo, da parte del Comune, per la realizzazione, viene rimontato. Io penso che a giorni dobbiamo sapere chi dovrà montare, diciamo, il nostro carro. L'anno scorso è stato un montaggio favoloso. Favoloso perché è stato fatto in dieci giorni. Quindi, in un tempo... Lo so per chiedere, quanto tempo mediamente ci si impiega? Ma, di solito, se... Ma quante ore al giorno, poi? Hanno lavorato anche sotto al sole. Ecco, ma l'anno scorso, come dice bene Maria Rita, in maniera incessante, assolutamente. Un evento estivo, quindi potete immaginare... Hanno lavorato anche sotto il sole. Quindi, io, infatti, andavo a trovarli e avevo paura che, insomma, di questo... Cioè, stavano veramente dando l'anima. Ecco, dando l'anima. Quindi, come vedi, la festa, diciamo, viene sentita da tanti volontari, ma, diciamo, coinvolge davvero tutti. Io ho parlato prima di bimbi, a proposito. I giovani come rispondono? Fanno parte della cittadinanza attiva? Sì. Allora, devo dire che... Allora, Michelangelo, il presidente, parlava di un cambiamento che è stato effettuato lo scorso anno. Questo cambiamento nasce, appunto, dalla volontà di poter coinvolgere anche i più giovani. Come? Attraverso i social, attraverso queste interviste, attraverso anche un'esperienza e un evento che abbiamo creato appositamente, è che quest'anno, alla sua seconda edizione, ha avuto un grandissimo successo che è Piccoli Timonieri tra gioia e tradizione. In cosa consiste? Dei bambini trasportano il carro in miniatura creato dal maestro Tommaso Palmiotti. Questa è una cosa bellissima mai fatta. Cioè, la cittadinanza si prepara al grande evento, a quello estivo, e allo stesso tempo fa vivere l'emozione degli adulti ai più piccoli che diventano protagonisti della nostra festa. Certo. Quindi abbiamo cercato proprio di creare una sorta di coinvolgimento emotivo, che forse era quello che mancava da un po' di anni, non soltanto nei bambini, ma anche nei ragazzi. E anche dalle visualizzazioni che comunque riceviamo possiamo notare questa partecipazione attiva e di questo siamo molto molto felici. Ma invece avete avuto anche una diretta a giugno? A giugno? Avete fatto una diretta per proporre il programma oppure no? Sì, abbiamo fatto una sorta di conferenza stampa. Ecco, sui social, non so, vi siete serviti dei social network in qualche modo? Certo, certo, abbiamo fatto una diretta. Questa conferenza aveva proprio l'obiettivo di poter spiegare quelli che poi saranno gli appuntamenti anche folcloristici, comunque il programma civile oltre che religioso della festa. Io volevo sottolineare un altro passaggio, Francesco, anche sempre e comunque nel tema del rinnovamento. Allora, facciamo una cosa, mi parla del tema del rinnovamento, poi c'è un'altra curiosità da sciogliere ai telespettatori sulla Madonna dei Martiri, questo a Molfetta, a proposito di storia, tradizione, andiamo per pochi istanti in pubblicità. Faccio parlare tutti. Restate qui, carissimi amici a casa, restate qui, pochi istanti torniamo. Ben ritrovati, carissimi amici delle spettatorie. Allora, come promesso, siamo ritornati in onda per continuare a condividere con voi i nostri territori. In particolare quello di Terlizzi, Molfetta, Antenna Sud e Media Partner, di eventi importanti eseguiti in tutto il mondo. Il Presidente mi stava, poi vado subito da Molfetta, mi stava parlando a proposito del rinnovamento. Passo subito agli amici di Molfetta. Che cosa è successo? Qual è il cambiamento che lei ha portato? Allora, è successo praticamente questo. Noi abbiamo puntato tutto sull'inclusività. È importantissimo questo. Noi abbiamo pensato dal primo giorno che la festa maggiore, la festa patronale, doveva essere la festa di tutti. La festa di chi non poteva andare in ferie, di chi era ospite nella nostra città. Quindi nel passato si faceva il lunedì il famoso praticamente, fra virgolette, cantante. Cioè si invitava, chiaramente sotto l'autocompenso, un cantante, diciamo, importante e si vendevano i biglietti a prezzi, diciamo, anche molto alti. E questo, insomma, ha creato nel tempo dei malumori. Che cosa abbiamo pensato noi? Di fare quattro giornate free, libere, quindi gratis per tutti, cercando di accontentare tutti, cercando di miscelare tutto. E tant'è vero che quest'anno, come l'anno scorso, ci saranno quattro serate, il lunedì, il martedì, il mercoledì e il giovedì, con la chiusura di un format favoloso che è quello di Nostagia 90. Quindi chiuderemo con il giorno 90. Il giorno prima ci saranno i cugini di campagna. Pezzi dance 90. Dance 90. Cult 90, insomma. Cult 90, sì, ci sarà sicuramente l'inferno quel giorno, ne sono sicuro. È uno dei periodi storici, dal punto di vista musicale, dove è stata scritta davvero gran parte della musica apprezzata ancora oggi. A tempo libero, io sono stato in radio tanti anni, quindi ho fatto anche il DJ per qualche anno. Devo dire che la musica degli anni 80 e 90 è il top di quello, insomma. Certo che sì. Poi che cosa ci riserverà? Il lunedì invece c'è la cover ufficiale dei Poo. Faranno uno spettacolo di circa tre ore praticamente molto simile a quello dei Poo, tant'è vero che loro hanno anche gli strumenti che, dismessi dai Poo, riprendere, diciamo, loro li hanno presi. A cover ufficiale praticamente. Praticamente sì, l'unica riconosciuta. Il giorno dopo invece siamo sul rock, quindi Pink Floyd, non loro. Chiaramente una cover. Ci stiamo attrezzando. Attrezzatevi anche per i Pink Floyd originali. Il terzo giorno invece questi sono gli originali cugini di campagna. Oh che bello. Uno dei cugini l'ho avuto ospite qua a pomeriggio sud. Sono sempre molto apprezzati, simpatici, disponibili. Ma anche umili, esatto. E poi ci fanno passare un paio d'ore, insomma, con un concerto dal vivo, quindi musica dal vivo, con, diciamo, con le loro hit più belle. Ok, io volevo invece, a proposito di soddisfare curiosità, quindi sciogliere, rispetto al nome della Madonna dei Martiri, no? E quindi vado a Molfetta. Rispetto, se non è una storia parla del 1185, una cosa del genere, ma rispetto al nome c'era un quadro che era arrivato? C'è una leggenda che narra, allora, dopo poi mi aggancio al discorso delle nuove generazioni, perché faccio una brevissima parentesi. Partiamo dal presupposto che per noi, e possiamo urlarlo davvero, è un onore fare quello che facciamo. Abbiamo una cosa importante, la collaborazione delle nostre famiglie, perché noi iniziamo forse da gennaio, febbraio, seppur la nostra festa è a settembre, bisogna partire un bel po' prima, abbastanza, perché siccome le nostre feste ce le invidiano in tanti, perché curiamo molto i dettagli, e quando ti ritrovi, come facciamo noi, quest'anno anche Michelangelo Suterlizzi ha puntato sulla qualità, sulle luminarie, gli illuminatori, quelli importanti, vanno a ruba già da gennaio, quindi a gennaio, febbraio massimo, già devi bloccare la dita delle luminarie. Se è disponibile. Se è disponibile. Quindi, diciamo, seppur da sempre, mai nessun vicepresidente è stato, diciamo, giovane come me, quindi io, ripeto, lo dirò per sempre, per me è un onore farlo. Ho avuto la fortuna di avere l'invito a fare questa cosa da Vincenzo Germinario, dopo aver ricevuto la nomina da Sua Eccellenza lo scorso anno, è una grande sfida, perché le città appunto sono grandi, ma ci sono delle tradizioni importanti dietro, e quindi hai il peso, e ripeto, ci dedichi mesi e mesi e mesi, perché poi, ovviamente questo devi escludere i social, perché se poi ti metti a leggere i commenti dei social non vivi più, nel senso che la festa non la fai più, non sai più che festa fare, perché è difficile accontentare tutti, nonostante... Se tutto si confonderebbe, alla fine ci ritroveremo un altro tipo di festa. Sì, ma perché alla fine, diciamo, il problema, chi magari anche nel loro caso, giustamente, perché io condivido in pieno il discorso di Michelangelo, che non tutti hanno la possibilità di spendere il ticket per un cantante, quindi si va su un discorso, diciamo, di inclusione... O per le elementi luminarie, perché voi vi contraddistinguete proprio per questo, anche il dispendio economico, Certo, certo, certo. Ci vuole comunque... In questa occasione ringrazio l'amministrazione, il sindaco, che ci danno una mano, ci danno un discreto contributo per fare la festa, anzi, continuerò sempre a ringraziarmi, perché loro ci danno degli ottimi consigli, come meglio spendere i soldi. Comunque è fondamentale anche l'apporto del Comune, dobbiamo dirlo, quindi pure noi ringraziamo il Comune di Terlizzi per la collaborazione che sta dando, darà, per quanto riguarda la festa maggiore. Loro sanno benissimo che la nostra festa è una festa importante, quest'anno siamo stati sul magazine di Borgo Ignazia, per il G7, ci hanno dedicato ben sei pagine, quindi per noi questo è un bel biglietto da visita. Il Comune ci tiene, il nostro sindaco, Michelangelo De Chirico, è appassionatissimo della nostra festa. Io ricordo, perché abbiamo più o meno la stessa età, anche se abbiamo lo stesso nome, che nelle scorse feste patronali, quando lui era un semplice cittadino, diciamo che eravamo molto vicini nelle curve pericolose, nelle famose curve pericolose, perché il cittadino doc si vede la curva pericolosa come il toro di Pamploma, insomma, quindi voglio dire che stiamo a questo livello, quindi io ringrazio lui perché ha a cuore la nostra città e la nostra festa patronale. Bene, l'amore e la profonda devozione per la Madonna dei Martiri, devo dire che resta immutata, lo dice la gente, non lo diciamo noi in una trasmissione televisiva, lo dicono i risultati. Sì, allora, mi avevi chiesto prima il fatto dell'icona della Madonna dei Martiri, ti volevo rispondere così. Allora, c'è una leggenda che narra che l'11 maggio di tantissimi anni fa, ora non ricordo l'anno preciso, e non voglio sbagliare, altrimenti c'è stato un terremoto che ha colpito le città limitrofe e Molfetta è stata salvata da questa catastrofe. E di lì è nato il nome Madonna dei Tremolizzi, appunto, che viene festeggiata l'11 maggio. E noi nell'intento appunto di diffondere il culto di Maria Santissima dei Martiri, già dall'anno scorso abbiamo pensato di mettere su un concorso di disegno monocromatico a matita rivolto alle scuole d'infanzia e scuole primarie. Appunto perché molti bimbi non sapevano nemmeno, diciamo, Madonna dei Tremolizzi, che alla fine poi parliamo della Madonna dei Martiri. Ed abbiamo avuto una grande risposta lo scorso anno, anche quest'anno. Ora, a breve verranno pubblicati sui social, poi ci sarà una commissione che alcuni, diciamo, verranno premiati dalla commissione, altri con il semplice like, e quindi si scatena, diciamo, tutta questa gara di like sui social. Ma siamo felicissimi perché poi premieremo i primi 15 quest'anno, mentre allo scorso anno i primi 10. Ma c'è stato molto entusiasmo. Ma c'è stato un comitato che trasmetterà in diretta l'evento? Sì, sì, noi ci stiamo organizzando su questo. Potrà essere fruibile anche chi vive, non so, in Germania o ovunque. Allora, noi abbiamo un collaboratore che si occupa della parte social, lo fa egregiamente, che lo ringrazio perché, diciamo, oggi, diciamo, alle 4 di mattina, ci siamo scambiati messaggi perché è la spalla. Questo è un problema, però. Questo è un problema, lo fanno tutto il periodo. Ecco, i volontari servono perché di fatto i componenti del comitato sono volontari. Di cui ringraziamo sempre, in qualsiasi momento ringraziamo. Alla prima posta ci vuole passione, tanta passione. Senza i volontari molte delle cose che vengono prodotte in Italia e nel mondo... Se non ami questo settore, riesci a dedicarmi. Oltre che poi devi... Lo facciamo sempre, non per noi stessi, ma per la città. Lo facciamo per la città perché alla fine noi, ecco, a volte evitiamo di, diciamo, di metterci in mostra, ma vogliamo solo che la festa venga apprezzata dalla cittadinanza soprattutto. Io ho catapultato qui in onda Germinario, il presidente che non è così avezzo alle telecamere, però ci sono riuscito. Eh sì, infatti. Torniamo un attimo a Terlizzi perché voglio sapere anche voi se siete social, in qualche modo potrete, lo sapete anche la detta stampa. Noi siamo super social. Forse questo può avere i sei pro e i sei contro, insomma, possiamo dirlo. No, diciamo che qualcuno potrebbe non andare in presenza perché tutto viene proposto, ma è diverso, è come il cinema, no? No, nel momento in cui ti godi, l'emozione in una sala cinematografica è completamente diverso dalla... In realtà ci ringraziano davvero in tanti, magari perché non sono più a Terlizzi e quindi comunque la festa patronale, la festa maggiore è sempre nei loro cuori. Loro vogliono seguirla, possono farlo attraverso le nostre dirette, anche attraverso le testate giornalistiche, quindi questo diventa anche un motivo per, insomma, coinvolgere anche coloro che per motivi lavorativi o personali non sono nel nostro paese. Però ovviamente i social hanno il loro contro perché ci metti la faccia, sostanzialmente racconti, spieghi tutto quello che accade in maniera trasparente e questo può piacere o non piacere. Forse piace molto di più perché ti presenti esattamente come sei e credo che alla comunità serva sapersi riconoscere. D'altronde la festa patronale è lo specchio di una comunità, noi lo sappiamo bene e quindi proprio per questo tentiamo di presentarci esattamente come siamo poi nella vita di tutti i giorni. La questione o la perfezione no, perché non si è mai perfette, anzi le nostre feste sono belle anche perché presentano dei punti di imperfezione, però poi rappresentano noi, nei nostri rapporti interpersonali anche all'interno del comitato perché poi si crea una famiglia, questo è inevitabile ed è bellissimo. Bello, è bello anche quello che viene regalato ai bimbi, la proponete piccoli timonieri? Certo. A luglio? Il 7 luglio, noi il 7 luglio partiamo già con piccoli timonieri, alle ore 17 se non ricordo male. 17.30 lo so io, piccoli timonieri tra gioia e tradizione. Purtroppo il programma è diciamo abbastanza ampio, quindi ricordarsi gli orari non è semplice. L'anno scorso è stata una novità, quest'anno devo dire che ce l'hanno richiesta in molti, specialmente le mamme passavano dal comitato, ma quest'anno rifarete questa cosa. I bimbi erano felicissimi di guidare questo carro, di spingere il carro, quindi per loro è stata una cosa veramente molto emozionante. L'incontro avrà luogo da voi in comitato? Davanti al comitato, sì sì, davanti al comitato. Stavamo anche pensando di fare dei cartonati con la possibilità di mettere praticamente il faccino dentro con il timone e con il carro dietro. Insomma stiamo cercando un attimo di fare le cose per bene. Oltre ai giochi ci saranno dei gonfiabili, ci saranno delle bellissime t-shirt, ma molto molto belle, veramente curate. C'è stato uno sponsor che ci ha praticamente donato queste t-shirt, io insomma lo ringrazio, e ci saranno proprio queste t-shirt commemorative di questo evento. Ci sarà anche la sfilata del piccolo carro? Certo. Sempre lo stesso giorno? Allora il piccolo carro verrà spinto dai bambini e guidato al timone dai bambini. È un carro di circa 6 metri. È un evento interamente dedicato ai bambini, cioè loro saranno i protagonisti indiscussi di quel pomeriggio, di quella serata. Qui volevo arrivare, fantastico. Ci sarà anche la pecorella, quella vera, perché insomma la famosa pecora che ha trovato la Madonna Nera di Sovereto sta sul carro il giorno della sfilata, quindi della processione. Quindi ci sarà quel giorno con i bambini, quindi sfiderà con i bambini il pastorello con la pecorella e ci saranno i quattro nuovi timonieri con il capo timoniere. Avremo anche lo spettacolo pirotecnico? Alla fine di tutto sì, un piccolo spettacolo pirotecnico, un piccolo assaggio di quello che poi succederà per la festa maggiore. Esattamente, che ricordiamo per chi ci seguisse da fuori, la data? Allora il 4 di agosto alle ore 21, tutti quanti, chi non può venire a Terlizzi può sintonizzarsi su Antena Sud, può farlo tranquillamente, ci sarà la processione del carro trionfale della Madonna Nera di Sovereto. E seguiremo integralmente, qui sul canale 14 ovviamente possono utilizzare varie forme. A proposito di social ci si può scaricare l'app Antena Sud, il nostro sito internet antennasud.com oppure le dirette anche su Facebook rispetto a quello che proponiamo sulla digitale terrestre qui attraverso i vostri teleschermi. Vi ricordo che potete anche chiedere informazioni allo nostro contatto mail pomeriggiosud.com L'addetto stampa che cos'è che raccomanda? Io vi raccomando di assaporare qualsiasi spirale di opportunità vi venga insomma proposto. Io l'ho fatto, sono giovanissima ma sono contenta di poter raccontare questa esperienza, di viverla in questa maniera, tutto più vitale, tutto più fresco. C'è bisogno di questa freschezza perché poi il nostro paese respira. Da quanto tempo hai piacere di raccontarlo? Ho piacere di raccontarlo dallo scorso anno, quindi di viverlo anche da un punto di vista diverso. Prima da ragazza barra cittadina, adesso invece non soltanto da addetto stampa ma da membro del Comitato Feste. Quindi una grande responsabilità che però coincide anche con una grande emozione. Bellissimo, mi piace l'appello dell'addetto stampa. Vado da qui, vado a questa parte, a Molfetta. Allora, si sceglie la tradizione, i cittadini lo fanno in modo puntuale, però far conoscere la televisione poi riesce ad entrare nelle case della gente, riesce a spoilerare non soltanto sulla tradizione ma sul tipo di appuntamenti. Perché venire da fuori? Ci sono tanti motivi. Allora, innanzitutto c'è un momento... Per il Presidente, prima. Sì, sì, no, no, no. Per il Presidente. Solo una cosa, soltanto ora, diciamo, mi stavo guardando, quindi... Do appuntamento a tutti, diciamo, l'8 settembre alle 14.50. Perché davanti al Sagrato c'è la cosa più sentita della festa patronale, dove inizia il rito da parte dei marinai che appunto bussano al portone della Basilica fino agli ore 15 che si spalancano le porte e si affaccia, il simulacro della Vergine Maria si affaccia sul Sagrato, diciamo, della Basilica. E di lì poi inizia la... sicuramente per quanto mi riguarda il momento più sentito della festa patronale di Molfetta, inizia il cortio processionale che la porterà alla banchina San Domenico dove verrà imbarcata sui tre pescherecci sorteggiati. Vi proponetemi un attimo le immagini perché è spettacolare, ho visto un drone, ho visto Fermento, ho visto il racconto di quello che quotidianamente e nel tempo poi accade, in quel di Molfetta in questo caso. Queste sono alcune immagini di quello che vi stavo dicendo poco fa. Sono immagini che si commentano da sole. Guardate, un fiume di gente, questa è la fase dello sbarco della Madonna. Non è un evento che attrae, attira anche chi non crede, anche gli atei. Questo avviene alle ore 20 perché alle ore 16 la Madonna viene imbarcata sui pescherecci e dopo quattro ore, ecco, questo invece è il momento dell'uscita, dopo quattro ore che la Madonna sosta, diciamo, nell'area portuale, appunto, del porto di Molfetta, alle 20 lascia i pescherecci e poi ci sarà successivamente la processione di rientro alla cattedrale. Dove viene custodita poi per... Fino alla domenica successiva, in questo caso l'8 settembre di domenica, la domenica successiva è il 15, quindi esattamente una settimana, dove poi nel pomeriggio alle 17.30 ci sarà la processione di rientro in Basilica. e per noi, Molfettessi, un altro momento molto atteso, e qui anche molto dai forestieri, alle ore 22, così se vogliamo chiamarla gara, perché poi di fatto non è una gara, almeno negli ultimi anni non è più una gara, una competizione, però diciamo ho detto, siccome è stata presa un pochino con le pinze nelle ultime edizioni, quindi è stato escluso il termine gara, ci sarà l'esibizione di tre fuochi, lo sparo di tre fuochi pirotecnici che spesso e volentieri, appunto siccome qui curiamo molto la qualità, spesso vengono coinvolte, e sarà anche quest'anno, delle aziende campane. Questi fuochi che si terranno in quale parte della città? Nell'area del porto commerciale, del nuovo porto commerciale, ormai un'area storica, a ridosso della Basilica, che è una classica location praticamente. Sì, è il momento conclusivo della festa, diciamo, e la domenica è prevalentemente religiosa, escluso questa chicca conclusiva dei fuochi. Io sono affascinato quando mi raccontate queste cose. La Madonna poi dove, per tutto il resto del periodo dell'anno, dove verrà trasferita? Rimane nella Basilica. La casa sua è la Basilica, la Madonna di Martiri. Ok. Rimane sempre là, la sua casa è la Basilica di Molfetta. Noi, i Molfettesi, per quando la Madonna di Martiri è la compatrona, c'è San Corrado che è il padrone di Molfetta, ma c'è un legame fortissimo verso la Madonna di Martiri. Uno, a un Molfettesi, forse, li puoi togliere di tutto, ma non toccargli la Madonna di Martiri. In quei giorni lui vede, vede nelle sue immagini, solo la Madonna di Martiri. Non vuole sapere più niente. Io scommetto pure con gli amici qualche volta che se c'è una partita dell'Italia, non credo che Molfettesi andrebbe a venire la partita dell'Italia, vedrebbe l'uscita della Madonna. Non c'è audience che tenga. Assolutamente no. Assolutamente no, è vero. Cos'altro mi aggiunge? Siamo quasi in chiusura. Niente, volevo solamente ricordare alcuni passaggi. Quindi a noi si comincia il primo di agosto, giovedì, con il collaudo statico del carro, quindi il carro a struttura praticamente vuota, quindi senza bambini e senza gente su, viene portato dai nuovi timonieri che si alternano ogni anno, sono tre famiglie che si alternano per ogni anno. Quest'anno tocca la famiglia Chiapperini, portano praticamente il carro dal Lamione a Viale Roma, quindi lì lo bloccano, questo il giovedì. Poi la domenica noi, la sfidata che comincia alle ore 21 e finisce alle ore 24 e poi successivamente i giorni, il carro fa ritorno, invece se non ricordo male, non voglio sbagliarmi, il 25 di agosto che è una domenica. Quindi noi riportiamo il carro che resta praticamente in piazza per tutte le serate, per tutto il mese di agosto, resta in piazza come monumento architettonico della nostra bella piazza, resta lì, e mentre il 25 di agosto noi lo riportiamo all'Avione dove poi viene praticamente smontato dal giorno successivo. Altre miniature come questa? No, allora ce ne sono tantissime, io però volevo dirvi una cosa molto importante. Noi dal 2 all'8 facciamo una mostra fotografica nel Criostro delle Clarisse dove ci sono tutte le foto storie di agosto, sempre durante il periodo festivo Giusto specificare così? Certo, certo, dal 2 all'8 di agosto in collaborazione con la Proloco facciamo una mostra fotografica dedicato proprio a tutte le foto storiche sia dalla Madonna di Sovereto che del carro, quindi con foto anche molto datate, quindi parliamo anche foto dei primi del Novecento, foto molto 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 belle. Le miniature sono tantissime a Ternizzi, veramente tante. Vi do una piccola chicca, molto probabilmente stiamo vedendo di farlo Sentiamo questa anticipazione. Stiamo vedendo di farlo. Nel salottino che Antenna Sud farà davanti al comitato dovremo piazzare una bella miniatura, una fatta veramente molto bene ad altezza Duomo circa. Stiamo vedendo di convincere il proprietario perché lui ce l'ha nella teca, ce l'ha molto... Non vuole esporla. Ce l'ha molto lì, come se fosse insomma... È molto geloso. Un gingillo. Un gingillo. Ma noi sicuramente cercheremo di farlo. Cercheremo di farlo. Come diceva il Presidente Francesco, questa mostra fotografica che poi è curata anche da un cittadino terriziese che è un grandissimo appassionato ricercatore, Pietro Guastamacchia Che è membro del comitato anche. Che ringraziamo. Tutte persone che sono innamorate del luogo in cui vivono. Assolutamente. E questa poi la bellezza, ma soprattutto, diciamo, questo è l'ingrediente principale, essere appassionati. Se non c'è quel fuoco, magari è anche inutile poter partecipare. Noi diciamo sempre, forse ogni cittadino terriziese almeno una volta nella vita dovrebbe far parte di un comitato feste. Almeno per capire come funzionano certe dinamiche e poi magari smettere di digitare come i leoni da tastiera da casa. Sarà ancora più forte, ma almeno per capire che cosa significa essere umani. Cioè, vogliamo ribadire il concetto che tutto è sulla superficialità. Ma in realtà i veri valori li raccogliamo proprio da interazione tra di noi. Molte volte si pensa che tutto quello che si fa lo si fa per un discorso personale di esibizionismo. Non è proprio così, insomma. Ecco, perché quando parlavi dei social, i social sì, ci sta, però... Poi, non è che si può piacere a tutti, Francesco, eh? Assolutamente. Ci fu qualcuno duemila anni fa che non piaceva a qualcuno ed hanno messo in croce. Quindi parliamo di questo. Noi stiamo cercando di fare il massimo. Penso pure loro, perché ci sentiamo spesso, e di questa cosa veramente io sono felicissimo, perché molte volte cercare di unire le culture porta a dei risultati ancora migliori. Ti senti meno solo. Ti senti meno solo. Ci si ritrova, ci si ritrova e ci si confronta. Però penso che l'appello deve essere comune. Cercate di collaborare. Prego, Vice Presidente. Dietro la realizzazione della festa, al di là del programma, ci sono una serie di situazioni che vanno viste e soprattutto, ecco, come diceva Michelangelo, una serie di questioni burocratiche che confrontandoci quest'anno abbiamo pensato magari la soluzione migliore e che magari anche il singolo cittadino non immagina minimamente e quindi ovviamente ti senti un pochino più protetto. Però voi finite il 25 agosto, noi iniziamo con il corti e il 25 agosto. E noi saremo con voi. E noi saremo sicuramente con voi. Vi passiamo il timone. Va benissimo, grazie intanto a voi che siete tra i protagonisti. Presidente, velocemente perché devo saltare i punti. Il 22 luglio ci sarà il sorteggio dei peschereggi per chi avrà l'onore per portare la Madonna. Benissimo. È un sorteggio tutto particolare. Il 27 luglio. 22 luglio. Il 22 luglio, ok, il sorteggio per cui si potranno proporre gli amici di Molfetta. Un piccolo appello anch'io, molto veloce. Ma proprio 10 secondi. Noi abbiamo bisogno di tutti i cittadini. Quindi dateci una mano perché in questo momento veramente non è semplice. Grazie. Grazie Michelangelo Mattacchione, presidente del Comitato Feste Patronali Terlizzi. Grazie Maria Rita Rana, detto stampa. Ringrazio Vincenzo Germinario, presidente del Comitato Feste Patronali Molfetta. Grazie a voi. Grazie a voi. E Francesco Sancilio, vicepresidente del Comitato Feste Patronali Molfetta. Siamo giunti ai saluti. Sta per concludersi questa edizione di Pomeriggio Sud 2023-2024. Io ringrazio tutti voi, carissimi amici telespettatori, che ci avete scelto, ci avete seguito con grande passione, con grande costanza. Un ringraziamento particolare va all'editore Milo Distante, che è riuscito a portare nelle vostre case una grande offerta televisiva. Pomeriggio Sud è una di quelle, ma è l'intera programmazione di Antena Sud che mira a soddisfare le esigenze del nostro pubblico. Ringrazio tutta la parte tecnica, sono davvero tanti. Ringrazio la regia per Fabio Pellino, ringrazio Andrea Scaramuzzi, Carlo, Poi Cristia Tempesta, il responsabile tecnico Nicola Faccilongo. Tutti quanti hanno contribuito perché arrivasse il prodotto finale nelle vostre case. E io spero di essere riuscito ad entrare, ad essere entrato in punta dei piedi attraverso i vostri teleschermi anche quest'anno, con informazioni e intrattenimento, attraverso tutti i fatti di cronaca principali, attraverso i consigli sulla salute, attraverso gli appuntamenti culturali che non devono mai mancare. Quindi ci vediamo prestissimo, buon pomeriggio Sud a tutti, grazie per aver seguito questa edizione. Buon pomeriggio.